La domanda è una persona uguale a tutti stessi, perché siamo il 70% che sentono l'elettricità, chi sentono dei piedi, chi sentono anche su una sedia e sentono che corri l'acqua, e provando, se si sentono qualcosa, dopo se si sentono a esercitati, si raggiungono a essere capaci di sentere qualcosa. E dopo, per la profondità, il libro, che dice, come dire no, il libro è scritto, scrive il libro, lì che dice, se uno, se ogni giro di Bateca calcola 5 metri di profondità, oppure 10, oppure 20 metri ogni giro di Bateca, perché quando arriva alla profondità la bacchetta non gira più. Mi ha scoperto che se era ancora putelito Picenin, e era questo mio prete, e lì, gli ha fatto i posti, e gli diceva, guarda, gli sentiva un pochettino tutti, e allora sto qui che le Picenin, guarda come senti l'acqua cosita. Dopo mi non mi interessa, ma dopo quando sono stagrando, che ha bisogno dell'acqua, che si arrestava all'istà, si arrestava con le bestie senza acqua, che bisogna portarla su dal paese e portarla fino alla cima, allora si cominciava a pensare di cattare un po' di acqua, e gli ho chiamato uno, e ho visto come lo faceva, e gli diceva, Dio, sono buon cammino, e provo, e provo, e provo, e provo, e allora ho cominciato, e ho fatto il posto e ho trovato l'acqua. Senti che è tutto un formicolio, le maniche, la Bateca, che è biondata, è stretta, stretta, perché la ti gira. Le bacchette, dopo il mio desalice, le bacchette, il libro, il disco, le ore, o stecche di balena, delle coste di balena, o canne d'indie, che mi dico le cose lì, allora ho preparato le piceninine, le canne d'indie, o sanguinele, le sanguinele le qui mecciono, sai, che si gira nei boschi, e da quelli se senti piacere il coso, dopo che è l'antisistema, che se li si fa a quelli a forcella, mi non sobbia bonda e tenla a mano, perché la mi scappa, in una maniera spaventosa, la mi scappa dalle mani, sono andato a farla a forcella, invece a curva, riesco a tenerla. e dopo col piombo, e col piombo, in base ai giri che mi fa, so se ne è tanta o poca acqua. l'elettricità, no? Questo è il corso dell'acqua, fa elettricità? Guarda, Teresa, guarda, 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 dieze. Vedi che la gira da sola? Vedi che la gira meno? Adesso la gira meno. Guarda, e la gira più, però se che dico va, guarda, la va, guarda. Guarda, 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 guarda. Va la bacchetta che la gira, che invece che mi metto, la sta ferma.